Il Verona, battendo il Cesena per 2 a 1, ha tolto ai romagnoli le residue speranze di poter restare in Serie A. Ha avuto ragione Valcareggi a far giocare tre punte, infatti il Cesena ha resistito all'assalto fino a poco prima dello scadere, quando Petrini ha girato verso la porta di Boranga una palla che si è beffardamente insaccata, dando alla via le marcature al 44esimo del primo tempo. Nella ripresa il Cesena, in maglia bianca, dà fondo a tutte le energie. De Ponti crossa il centro, Palese è pronto a girare verso la porta e colpisce in pieno il braccio teso di Logozzo. L'arbitro Longhi, al suo debutto in Serie A, decrete il rigore. Si appresta a batterlo Fustalupi, parte il tiro ma Superchi si muove prima e para, l'arbitro fa ripetere. Questa volta batte De Ponti e insacca, è l'1-1. Il Verona riparte a testa bassa, vuole i due punti e stringe i tempi. Zigoni crossa al centro dell'area, entra di testa e segna Fiaschi, è il 2-1, è la rete della vittoria veronese. Tutto sommato meritata, anche se la sconfitta del Cesena per le sue conseguenze appare sproporzionata.